Francesco Anselmo, siamo ormai quasi alla soluzione tra le parti, avete trovato una sorta di intesa vagliando le diverse proposte avanzate? Sì, abbiamo avviato dei contatti sempre con l'amministrazione e stiamo riuscendo ad ottenere la possibilità di allenarci con il pallone all'interno del Campoconi e ovviamente spero che prossima settimana ritorneremo nella casa dei cittadini trapanesi. Senti, quanti sono gli atleti della Regmi e Limi Trapani? I nostri ragazzi tesserati sono 60, compreso ovviamente lo staff e ovviamente abbiamo dei ragazzi di eccellenza che rappresentano i Trapani all'interno della rappresentativa siciliana e speriamo appunto anche di giocare grazie all'assessore Abruscato le nostre partite in casa. Quindi in tutta sicurezza, uno sport assolutamente per tutti praticamente possiamo dire? Sì, sì, sia per ragazze e ragazzi, ovviamente la nostra attività è principalmente nel settore giovanile e appunto garantiremo per la prossima settimana un rugby in sicurezza per i cittadini trapanesi. Beh, bisogna adesso individuare dove giocare le partite. Sì, le partite per ora i nostri ragazzi stanno giocando a Palermo, però c'è una grande disponibilità da parte di questa amministrazione nel voler farci giocare anche a Trapani e questo è un grazie enorme che vogliamo esprimere.